Per l'Inghilterra sarà dura passare il turno. Abbiamo un girone difficile con Italia e Uruguay. L'umidità e le condizioni del terreno saranno diverse da quelle a cui siamo abituati. Sarà difficile passare, ma sono ottimista. Ma spero che tutti questi giovani possano fare bene, altrimenti non sarebbero stati convocati nell'Inghilterra. Non temo qualcuno in particolare dell'Italia. Giocano bene come squadra. Agli europei ci hanno surclassato con il loro possesso palla. Mi piacerebbe che l'Inghilterra giocasse più così, ma purtroppo non lo facciamo bene come dovremmo.